Buongiorno a tutti. Il 6 ottobre ho tenuto una conferenza online su Hieronymus Bosch. Purtroppo ci sono stati una serie di problemi tecnici e quindi ho deciso di riregistrarla adesso in studio per poterla mettere poi online. Vi ringrazio. Intanto andiamo alla condivisione dello schermo. Prima di parlare di Hieronymus Bosch e i suoi quadri, in realtà si pronuncia in olandese Bosch, faremo una biografia breve basata sulle pochissime notizie che abbiamo di questo grande artista. Questo che vediamo è un ritratto postumo di Bosch, diciamo poi d'ora in poi Bosch, perché così è più conosciuto, eseguito nel 1550 quando era morto a 34 anni, quindi non sappiamo esattamente qual era il suo aspetto. Sappiamo invece che il suo nome è un nome d'arte. In realtà dietro c'era gli eroen Antonis Zohn van Haken, nato nell'ottobre del 1453 e morirà nel 1516, che nacque a Sir Togenbos. Il suo nome d'arte viene proprio dalla città di nascita, una città nel sud degli odierni Paesi Bassi, che era allora il possedimento dei duchi di Borgogna. Sir Togenbos era la terza città in grandezza dei Paesi Bassi stessi. La sua famiglia probabilmente era di origine tedesca, originaria appunta di Haken. Noi la conosciamo come Aquisgrana, diciamo che è stato uno delle capitali di Carlo Magno. Il nonno Jan e quattro dei suoi cinque figli, tra cui il padre dell'artista Anton van Haken, erano pittori, così come erano pittori i fratelli di Bosch, Gossen e Jan. Quindi siamo in famiglie che hanno questo tipo di professione, ci sono anche in Italia a quel tempo, ma soprattutto nei Paesi Bassi sono molto comuni. Pare che Anton van Haken fosse il pittore di maggior prestigio nella sua città e quindi era capo di una sorta di impresa familiare, che lavorava per il patriziato locale e per la chiesa di San Giovanni, che è questa che vedete rappresentata, che diverrà capitale, cattedrale scusate, nel 1559, quindi molto dopo la morte di Bosch stesso. Nella bottega di famiglia si praticava oltre alla pittura, la policromia su sculture delle linee, la doratura e la produzione in genere di arredi sacri. Il 15 giugno 1481 abbiamo un documento in cui Bosch è già menzionato come ammogliato, con tale Fander Merven, di sette anni più vecchia, di estrazione borghese relativamente agiata. Questa informazione è molto importante perché con il matrimonio, l'Eronimus Bors eleva il proprio rango sociale, anche se l'unione ribarrà senza figli e soprattutto raggiunge una certa sicurezza economica e può permettersi di darsi alla pittura senza troppe angosce. Ancora il fratello maggiore Gossen a dirigere l'impresa familiare, ma Ieronimus può già disporre di un proprio studio privato personale nella sua casa. In seguito, nel 1497, Ieronimus subentrerà al fratello che è morto alla guida dell'impresa familiare e fino al 1500 sembra che la clientela del pittore rimanga essenzialmente di Serkot Hogenbos locale, ma progressivamente si allarga grazie alle conoscenze altolocate. Infatti, il caso di cui parleremo, in realtà è venduta a dei signori di Anversa. Dal 1486-87, Ieronimus è iscritto ai confratelli di nostra diletta signora, una confraternita con un simbolo, un giglio tra spine, sicutlilium interspinas, come ogni confraternita è dedita a opere di carità, a pratiche devozionali, legate all'immagine della Madonna, in particolare un'immagine della principale chiesa cittadina. Ma in realtà questa confraternita ha anche un campo di azione molto più vasto e più interessante per noi, perché pubblicava anche libri e soprattutto libri anche umanistici e apriva anche delle case di insegnamento della lingua latina. Due erano a Serk Togenbos, una aperta nel 1424 e una nel 1480, e quest'ultima tra il 1485 e il 1487 era stata frequentata dall'allora diciassettenne Erasmo da Rotterdam, un grandissimo umanista del suo tempo. Non ci sono collegamenti diretti tra Erasmo e Bosch, ma connessioni indirette in qualche modo sì. Sono ravvisabili tra i dipinti dell'artista, di cui vediamo una qua, una rappresentazione a destra, e si attingono alla nave dei folli di Sebastian Brandt, che fu fonte di ispirazione sia per l'elogio della follia che per questo quadro di Bosch. Sicuramente l'artista sviluppò un proprio stile diverso da quello allora maggiormente in voga, lo vediamo anche in questo ritratto di Filippo il Bello, basato, allora erano basati sulla resa dei volumi plastici, sulla finezza dei dettagli per cui i fiamminghi erano famosissimi. Invece Bosch segue, fa una scelta, cerca un'esecuzione piatta, quasi a due dimensioni, grafica anziché pittorica. Lo possiamo quindi considerare erede sotto questo aspetto dell'arte dell'illustrazione mini-arta, più che della pittura del suo tempo. Tra gli scassi documenti che si riferiscono alla committenza di Bosch, spicca quello di un Filippo il Bello, cioè l'uomo politico importantissimo a quell'epoca, che era capo della locata di Borgogna, che contava più del regno di Francia forse, che nel settembre del 1504 passa la commessa per un grandissimo quadro sul giudizio universale. Noi possediamo un quadro sul giudizio universale di Bosch, molto importante, molto grande, ma probabilmente non è lo stesso. Questo era un altro quadro ancora più grande che abbiamo perduto. Bosch non datò mai i suoi dipinti e ne firmò solo alcuni. Dopo la sua morte, il re Filippo II di Spagna, che nel frattempo si era, per ragioni anche dinastiche, impadronito dei Paesi Bassi, fu un appassionatissimo collezionista dei suoi lavori. Come risulta, anche oggi, perché la Spagna è oggi il paese che in assoluto possiede il maggior numero di opere di Bosch, soprattutto tenute nel Museo del Prado e al Monastero dell'Escorial a Madrid. Tra l'altro anche le opere più belle, non solo numericamente superiori. E questo è vero anche per il trittico dell'Adorazione dei Maggi, che è uno dei suoi dipinti più famosi, ma relativamente recente, 1496-1997, che è conservato al Museo del Prado di Madrid e come ogni trittico dell'epoca aveva due posizioni in cui poteva essere visto, cioè chiuso, con una rappresentazione a colori molto spenti, grisail, o aperto, invece, intensamente colorato. Con ogni evidenza, durante i giorni normali della settimana, il trittico era chiuso, mentre nelle feste veniva aperto. L'opera è firmata nello scomparto centrale, nell'angolo in basso a sinistra, e fu inviata a Filippo II di Spagna, come abbiamo detto, appassionato collezionista di Bosch, e sappiamo che nel 1574 si trovava all'Escoriala, nel monastero, e abbiamo anche, diciamo, delle valutazioni critiche dell'epoca in cui si dice che era un'epifania senza alcuna stravaganza, a differenza delle altre opere di Bosch vivi presenti. In realtà, qualche travaganza c'è, e diciamo che quindi questi catalogatori, più che critici, non l'hanno osservata con abbastanza attenzione. A Dante Chiusa rappresenta una scena molto diversa rispetto al titolo, si tratta della famosa messa di Bolsena, in cui il sacerdote poco credente del fatto che nell'ostia fosse presente il corpo di Cristo, viene sostanzialmente smentito da un miracolo. quindi è dipinto in grisail, come era tipico del tempo per i politici chiusi, che dovevano contrastare con lo sfolgolare dei colori che mostravano quando venivano aperti nelle giornate festive. All'interno di questa pala chiusa, Papa Gregorio Magno si è inginocchiato davanti all'altare su cui stava celebrando la messa per l'evocazione di Cristo dolente dall'ostia consacrata. Alla scena partecipano altri personaggi inginocchiati o affioranti con curiosità dalle quinte laterali o una particolarità, diciamo, di Bosch attorno a Cristo che si mostra come se scelsasse dal sarcofago si trovano un arco con angioletti in volo e più oltre una cornice figurata con scene della passione. Dal basso a sinistra si possono riconoscere attraverso ingrandimenti l'orazione dell'orto, la cattura a Cristo davanti a Pilato, la flagellazione, la coronazione di spine e la via Crucis che è rappresentata efficacemente come una salita da destra verso sinistra. Viceversa, il coronamento di questa scena di tutta la Pala si culpina con una crocifissione rappresentata con una notevole inventiva spaziale sulla cuspide dell'altare che viene fatta coincidere con il monte Calvario sullo sfondo scuro che è particolarmente adeguato a rappresentare la nera desolazione dell'evento tragico. Nel cielo, attorno alla croce, si vede a sinistra un angelo in volo e a destra un diavolo con un balluginio rosso sulla testa, quasi la forma di una cavalletta come spesso usava per i diavoli in volo Bosch e questo diavolo trascina via l'anima capovolta di Giuda Iscariota. Lo stesso Giuda si vede impiccato sul bordo destro del monte con un uomo che lo indica a un bambino. In primo piano si riconoscono due personaggi in abiti contemporanei a Bosch a piena coloritura. Evidentemente si tratta di due committenti. Esami recenti hanno confermato che si tratta di aggiunte sulla superficie pittorica originale. Quindi mi stupirei che non siano direttamente di Bosch e ci sia una sorta di sfruttamento di committenti esterni per poter moltiplicare il denaro della chiesa. Ma andiamo qua al trittico aperto a giudicare dalle molte copie e varianti realizzate nei decenni successivi oltre una trentina di quelle che possediamo l'adorazione è certo stata una tra le opere di maggior successo di Bosch se non la più fortunata in assoluto forse. Nello sportello sinistro sono raffigurati San Pietro e il donatore in ginocchio come spesso capita il santo di riferimento allo stesso nome del donatore che in effetti si chiama Peter Bronkhorst l'identificazione c'è possibile attraverso lo stemma di famiglia che ha il motto in olandese uno per tutti Nello sportello di destra raffigurati invece Sant'Agnese con la donatrice che si chiama Agnese anche lei ha un cognome che evito di pronunciare per non rarlo in ginocchiata pure col suo stemma vicino in secondo piano sopra la testa diciamo della donatrice c'è un agnello accucciato che è il simbolo tradizionale di Sant'Agnese ed è anche una prefigurazione di Cristo i coniugi sono di anversa e ciò dimostra un allargarsi della clientela di Bosch oltre i ristretti confini di Sartoghenbosch qua vediamo il pannello centrale facendo uno zoom sulla scena alla rappresentazione della durazione dei tre magi a un primo distratto sguardo siamo nel pieno della tradizione pittorica secolare se non che basta un'occhiata in più per iniziare a nutrire qualche dubbio ma partiamo dai re magi stessi perfettamente in linea diciamo è il primo re tra quelli raccolti davanti alla stalla pericolante per rendere omaggio al bambino ritratto in profilo inginocchiato davanti a Maria e al bambino e coperto da una semplice veste di rosso pallido un colore che Bosch sceglie di solito per gli eremiti a destra siede Maria avvolta in una veste blu che è una caratterizzazione di Maria come sedes sapiense e presenta un minuscolo Gesù bambino nudo su un panno bianco facendogli da trono con il suo corpo la bianca corona di capelli che ricorda la tonsura rivela la veneranda età del re lo definisce come saggio e la sua adorezione è sentitissima anche l'espressione è compresa diciamo ai suoi piedi già c'è il suo dono una raffigurazione scolpita in oro del sacrificio di Isacco che prefigura tradizionalmente quello di Cristo la scultura schiaccia però dei rospi che hanno la funzione di piedini e sono simbolo di eresia quindi vediamo tutto Boscia anche in questo piccolo particolare che fa a contrastare il quadro generale per atto di umiltà è posato a terra il ricco diadema ornato da una coppia di pellicani che tengono i frutti rossi nel becco anch'essi sono prefiguratori del sacrificio di Cristo perché sappiamo che il pellicano che si colpisce col becco il proprio petto per dare da mangiare e da bere ai propri piccoli affamati è una raffigurazione tradizionale di Cristo che si sacrifica per noi dietro di lui parzialmente coperto è inginocchiato un secondo re di mezza età con la barba un abito color grigio blu e un dono sul piatto la cappa attorno alle sue spalle è una sorta di mozzetta è decorata da figure a grisal con toni gialli e blu che rappresentano la visita della regina di Saba al re Salomone un episodio dell'antico testamento che tradizionalmente era interpretato come una sorta di preannuncio dell'adorazione dei magi in effetti la regina di Saba viene a sapere della saggezza di re Salomone e decide di andarlo a visitare per anche lei è un po' una maga come re Salomone è considerato tradizionalmente un mago e vuole conoscere una persona di altrettanta potenza mentre il re più anziano è interamente contraddistinto da attributi positivi l'aspetto del secondo re è più sontuoso e quindi meno umile e il suo atteggiamento è quasi distaccato lo sguardo si perde nel vuoto bellissimo è il terzo re che rappresenta però delle caratteristiche più ambigue in parte negative un fatto che non deve sorprendere perché i re magi non dappertutto erano considerati dei santi tant'è vero in certi posti come Colonia dove c'erano le loro reliquie sì evidentemente o a Sant'Eustorgia a Milano ma altrove no sta un po' in disparte rispetto alla scena principale il colore della sua pelle indica la sua provenienza da paesi molto lontani e nel Mondiale a talora una valenza diabolica anche in Bosch in particolare e il collare le spalline era una guisa di erba spinosa il piccolo servitore del re in una veste rossa porta sul capo un ramoscello verde con un frutto rosso simbolo anche questo diciamo un po' della vita naturale che è una vita semplice però anche priva di spiritualità l'immacolata vestita del re potrebbe essere da intendere in senso ironico oppure come il segno che è riuscito a dominare con la volontà la sua propensione al peccato sul dono che porgi il drago può rappresentare anche una minaccia ma sul contenitore sferico rappresentata ancora una volta a Grisail quasi fosse una scultura la visita di Abner a Davide ossia l'equivalente della visita della regina di Saba Salomone raffigurata sulla mantellina del secondo re questi due episodi dell'antico testamento preludono entrambi all'adorazione di Gesù bambino da parte dei magi e alla presentazione delle loro offerte interessante molto bella sono questi ricani sulle vesti dei due peccato della lussuria viene rimandato la giovane età del re a cui è attribuita un'inclinazione alla lascivia non a caso le figure che decorano il borto del suo mantello sono uccelli di sirene in coppia femmine e maschi circondati da uccelli che beccano semi o frutti sull'orlo del vestito del piccolo servitore un mostro simile a un pesce sta ingoiando un altro mostro pesce più piccolo con un'allusione al proverbio pesci grossi mangiano pesci piccoli che è richiamato anche in altri dipinti di Bosch e anche di Brugger il vecchio il re nero e il suo servitore personificano forse la vita naturale che essendo regolata dai sensi e dagli istinti e incline automaticamente al peccato in genere si può dire che i tre re sono disposti da sinistra a destra secondo un ordine di progressiva importanza e somiglianza a Cristo i più lontani sono i più lontani da Cristo stesso la scena principale si svolge davanti a una stalla di regno che è in rovina pittoresca all'interno della quale si sono radunate alcune figure chiaramente negative il caporione di queste figure sta in piedi sulla soglia della stalla e spesso identificato con l'anticristo una figura assai strana rimanda in qualche modo in modo distorto ai caratteri distintivi di Cristo come la corona decorata da un intreccio di spine metalliche sul capo e se vedete anche una piaga sul polpaccio con una protezione in vetro mezzo nudo è parzialmente avvolto in un mantello rosso che può alludere tanto alla passione quanto a una veste regale in porpora nella mano sinistra tiene una corona a balze coniche che vediamo qua in alto a destra simile alla tiara papale ma decorata da figure simili a rane che quindi sono degli elementi decisamente negativi di suo seguito in cui si riconoscono quattro facce tra cui una canina guarda dietro di lui attraverso una finestra interpretata in questo senso la scena conferisce all'intera rappresentazione un significato da una parte escatologico poiché l'antricristo era concepito come l'avversario di Cristo che sarebbe apparso in forma ignota poco prima dal giudizio universale per trarre gli uomini in inganno dall'altra estremamente ambiguo altri pensano che questo sia il messia giudaico colpito dalla lebra o la rappresentazione dell'eresia che riprende le caratteristiche delle sacre scritture ma stravolte le figure dei pastori che sbirciano da dietro la madonna introducono un ulteriore elemento di sospensione e di inquietudine soprattutto per l'espressione patibolare del vecchio che guarda da un foro sbrecciato nella parete iniziando iniziando da destra nel quadro la seconda fascia ci permette di centrare lo sguardo sul tetto mezzo sfondato di questa sderenata capanna di cui anche le pareti fatte di terra pressata su canne come si usava peraltro all'epoca stanno però franando sono in qualche modo un simbolo della precarietà del mondo che accoglie il salvatore in equilibrio precario su un tetto quasi sfondato sono altri due pastori mentre un terzo pastore sta raggiungendoli arrampicandosi su un tronco secco a destra pare che questi pastori reggano della corna muse anche la loro presenza il fatto che si nascondano anch'essi per sbirciare dall'alto semina qualche inquieto dubbio la scena immediatamente superiore vede due eserciti affrontarsi tra cui quello a sinistra sembra composto da mori e non manca di particolari gustosi come un uomo seminudo che corre un cagnolino lo vedete forse e uno che suona una lunghissima tromba l'esercito a destra sembra invece più di cristiani però si avventura su un terreno umido e paludoso e potrebbe trovarsi quindi svantaggiato o in seria difficoltà uno zoom sui due pastori con corna muse e sul ponte con l'esercito diciamo così crociato e sulla capanna sulla parte terminale della capanna che è una sorta di fienile sbrecciato su cui sono appese è però ancora un mazzo di grano che aveva un significato augurale lo troviamo anche in rappresentazione del matrimonio di Brugel il vecchio con questo significato sul pannello a sinistra c'è un uomo seduto su una cesta sotto una tettoia anch'essa scassata e pericolante su cui cresce anche un arbusto che asciuga a un fuocarello dei panni si tratterebbe di San Giuseppe che è assente dalla scena principale spesso nei dipinti medievali un po' così isolato comunque sono nato anche psicologicamente perché è quasi a chiedersi cosa ci faccio qui che fa asciugare i pannolini del bambino il cui si dà da fare diciamo come padre putativo la scena è ambientata in una sorta di chiesa in rovina pare una trasparente allusione alla chiesa di Roma su cui è aperto un portale decorato ma queste decorazioni sono anch'esse il massimo dell'ambiguità due statue sovrastano i piedi dritti di cui una mozza mentre sulla cuspide dell'arco c'è un rospo capovolto usuale simbolo demoniaco di Bosch altri due rilievi con ambigue figure danzanti sono in basso nei piedi dritti nelle parti laterali diciamo del portale oltre una brocca su un battiscopa un pizzico notevole di mistero è aggiunto del fatto che l'arco dà su un androne che porta a un altro arco che dà a sua volta su una sala oscura si tratta di un'evidente architettura impossibile all'Aesher perché se si guarda la scena dalla prospettiva dall'altro si vede che una che questa rovina è priva di qualsiasi altro edificio posteriore sopra c'è un gruppo di cinque contadini che danza a confonderci ancora più la testa proseguendo la zigzag nella fascia più in alto stavolta da sinistra a destra si nota una serena scena agreste ovviamente un po' di tranquillità diciamo con un campo chiuso da una palizzata su cui pascolano delle pecore prima del muretto invece ci sono due figure prese di spalle una donna vestita in rosso che passeggia accanto a un uomo in una veste verdina che ritroveremo altrove in altra situazione e poi un cavallo baio con criniera e coda bianche qua siamo nella tranquillità assoluta sul pannello centrale uomo e donna sono sempre di spalle anche se è cambiato l'ordine e guardano quella che forse è una locanna ha un'insegna con un cigno che si intravvede un po' a destra di loro mentre mentre un altro uomo li sbircia da dietro un muretto qua più a destra c'è anche una gustosa figura di un signore che trascina un asino coperto da una gualtrappa colorata seconda seconda interpretazione ci tratterebbe questo edificio una casa di piacere infatti il tema dell'ambigua locanda la locanda di perdizione è comune in Bosch e di fatti questa interpretazione sembra quasi avvalorata dal pannello di destra in cui vediamo la donna anche se il colore della veste è nera minacciata da un lupo mentre un altro lupo con un coltello infilato nel dorso sta sbranando l'uomo il tutto parebbe avere un senso didattico morale anche divertito se vogliamo un po' Bosch apprezza queste scene un po' truculente però è inserito anche un cinghiale una cinghiaressa anzi con un uccello sopra il dorso accompagnata dai suoi piccoli che si introduce dentro idillica o inquietante scena sulla fascia superiore da destra a sinistra un velato e offuscato paesaggio di laghi e stagni e nel pannello destro c'è una sorta di visione astratta di una città che è un po' una città ideale in senso rinascimentale ma anche una città come dire orientale strana poco sconosciuta fantastica turrita con edifici cilindrici cupole a pera una sorta di zigurat edifici a campanula tre ben tenuti boschetti percorsi da coppie cavalieri o con uomini seduti a riposare sull'erba e introdotto in questo paesaggio fantastico estraneo ai Paesi Bassi un piccolo mulino al centro che invece è un richiamo veristico ai Paesi Bassi stessi lo stesso mulino lo troviamo su un picco in un dipinto di Brugger il Vecchio quello della dell'andata della salita al Calvario ecco due zoom parziali sulla città e più avanti ecco qua un edificio religioso a pianta rotonda con Rus di Cernnessi in questo paesaggio che in questo pezzo invece è dolcissimo passiamo adesso ai sette peccati capitali ai quattro nuovissimi che è un'altra tavola scusate vado ad accendere la luce forse risulto per quanto nel riquadrino un po' più visibile questo è un dipinto a olio su tavola attribuito a Hieronymus Bosch un suo imitatore databile 1500 1525 per cui non siamo sicuri c'è anche chi dice che è un dipinto di Bosch completato invece da uno della sua scuola ed è conservato anch'esso al Museo del Prado di Madrid l'opera però è firmata sotto il cartiglio inferiore a Hieronymus Bosch e il fatto che Filippo II lo tenesse in una delle sue stanze personali quella utilizzata a biblioteca può farsi pensare che l'attribuzione a Bosch sia corretta perché senza altro Filippo ha fatto un'indagine per cercare di capire chi era il pittore e il suo pittore preferito era Bosch appunto il dipinto riprende una tipologia di esempi pedagogici abbastanza comune nelle chiese la datazione a dopo il 1500 sarebbe dimostrata dall'ampio berretto che si trova in uno dei peccati l'avarizia che divenne di moda a quell'epoca la tradizione vuole che si tratti del piano di una tavola in cui si mangiava comunque un tavolo anzi cosa sicuramente falsa nella pupilla centrale Cristo si erge dal proprio sepolcro entro una fascia di raggi dorati che simboleggiano l'occhio di Dio non a caso sotto questa figura si nota una scritta in latino cave cave dns dominus videt attenzione attenzione Dio ti vede cominciamo con le rappresentazioni dei peccati l'ira è rappresentata da una rissa tra due paesani ubriachi mentre una donna cerca di calmarli vedete che sparsa nella scena ci sono oltre che un tavolo un cappello un semi cappello a cilindro delle ossa la fede la fodera di un coltello di un coltellaccio che ha in mano il personaggio una è anche una una sorta di mantello rosso personaggio a destra ha in mano una brocca che dimostra che si è completamente ubriaco mentre regge il coltellaccio quello a sinistra si è messo in testa questa sorta di sgabello dietro c'è ancora una volta un fabbricato che potrebbe alludere alla locanda della perdizione di fatto è una locanda perché vediamo un leone rampante che sforge al di fuori nell'insegna tradizionale posta in questa posizione locanda qua è la rappresentazione dell'invidia che è rappresentata con per mezzo di un proverbio fiammingo che recita due cani con un osso difficilmente raggiungono un accordo l'immagine infatti mostra due cani che non si interessano alle ossa davanti a loro ma aspirano solo all'osso tenuto in alto da questo personaggio insomma invidia è tipico di questo noi abbiamo delle cose di cui potremmo godere ma invidiamo solo le cose degli altri anche questo personaggio e prevedibilmente sua moglie guardano con invidia un elegante nobile con il falco in mano che fa lavorare gli altri per lui l'uomo che porta il pesante sacco sulla schiena aspirano insomma quello che non possono avere mentre la loro figlia si rivolge dalla finestra a un pretendente del quale spicca soprattutto il grande portafoglio procediamo la prossima rappresentazione di peccato è l'avarizia è mostrato un giudice disonesto che accetta il denaro sottobanco da entrambe le parti in causa attenzione l'avarizia in significato suo medievale e anche rinascimentale non rappresenta semplicemente l'avarizia come ne intendiamo noi ma l'amore sconfinato per il denaro anche se ciò porta a dissiparlo e non necessariamente a conservarlo una rappresentazione gustosa della gola in cui due contadini mangiano e bevono smodatamente davanti a un bimbo obeso che da loro trae il cattivo esempio notiamo qua una serie di oggetti anche che in modo divertente sono sparsi nella scena tra cui anche appeso un cappello con una freccia un piccolo a sinistra un piccolo sedile che è quella per fare i propri bisogni anche un pentolone non scapello bastone e quant'altro più da vicino vediamo che il bimbo obeso oltre a tentare di afferrare quello che il padre forse sta cercando di mangiare ha anche il sedere sporco mentre l'uomo a destra ha i pantaloni sdrucciti un piede che fuoriesce dal cascare e si sta sbrodolando tutto con il vino che si versa in bocca insomma sono una serie di segnali come la gola può portare anche alla rovina economica ecco la cilia cioè la pigrizia che è simboleggiata da un personaggio che dormicchia in un'abitazione accogliente davanti a un camino mentre la fede che è nelle sembianze di una suora gli appare in sogno per ricordargli i suoi doveri di preghiera anche un cagnolino è accucciato arrotolato attorno al vicino al fuoco la russuria è rappresentata da due coppie diamanti di cui uno in piedi un'altra con un uomo accucciato sdraiato per terra in una sorta di picnic e la donna invece inginocchiata che sono rallegrati da una coppia di buffoni particolari anche qua sparsi sulla scena di questo picnic improvvisato con tenda tra cui anche delle brocche di vino o di birra una e una birra non è esattamente una birra ma ci intendiamo nella superbia infine si vede una donna di spalle intenta a provarsi un'acconciatura un diavolo da dietro una sorta di canterano dipolge lo specchio vediamo che questo diavolo infietante ma con la testa coperta da una sorta di crinolina quindi è una sorta di rappresentazione della donna nella sua versione malefica molto belle sono questi vasi sopra questa sorta di armadio sono lavorazioni che erano tipiche dei paesi bassi esportate in tutto il mondo di allora queste ceramiche di Delft finiti i peccati capitali attorno ci sono quattro donni i cui uno rappresenta la morte la morte di una persona che potrebbe essere un peccatore o no a seconda se il diavolo o l'angelo che stanno sopra il suo cappezale prenderanno il sopravvento mentre la morte fa capolino da dietro la testiera del letto e ha in mano una sorta di freccia con cui trafiggerà il malato terminale che ha letto una rappresentazione diciamo piuttosto formale del giudizio universale con Cristo che a sinistra ha una sorta di giglio alla sua destra una sorta di giglio che è rivolto verso i beati e alla sua sinistra ha una sorta di spada che è simbolo di conanna mentre dal terreno sottostante riemergono dalle tombe i morti e intorno a Cristo sono le schiere dei santi donne e uomini e da qua passiamo all'inferno sono ripetuti tutti i peccati che abbiamo visto precedentemente con le loro punizioni e la scritta a che peccato ci si riferisce ad esempio qua abbiamo ancora una volta la superbia che in modo per noi non completamente comprensibile rappresentata da questa donna che si specchia comunque i genitali di entrambi i personaggi sono messi in pericolo da questi mostricciattoli poi vediamo l'avarizia che è un pentolone in cui un diavolone nero sta buttando attraverso la bocca delle monete in realtà quindi è un pentolone che è di oro fuso all'interno di cui nuotano i dannati abbiamo detto l'amore per i soldi la lussuria piuttosto comprensibilmente invece rappresentata da due persone in un lettone matrimoniale con una serie di diavolacci e di esseri orrendi che li stanno insidiando l'ira è una sorta di occhio per occhio perché c'è un diavolo girsuto che sta girando l'iroso direttamente la gola abbiamo un personaggio su una tenda che ha davanti a sé una tavola vuota e invece dei cibi ci sono dei mostriciattoli un serpentello un rospo e un lucertolone meno comprensibile per noi è la punizione del reato di acidia del peccato di acidia in cui un uomo viene squartato e poi i suoi resti vengono gettati come si vede qua dentro in questa sorta di forno è una rappresentazione che vediamo anche in uno degli inferni nell'inferno di Bosch un altro quadro infine l'invidia in cui un branco di lupi e di altri animali sta sbranando delle persone in questo paesaggio infernale poi di fuochi che è rappresentato dietro un altro diciamo il tondo finale rappresenta il paradiso che è in una forma molto tradizionale come gli angeli concertanti in primo piano San Pietro che accoglie le anime dei beati dietro direi con questa sorta di di croce dovrebbe esserci l'arcangelo San Michele che stabilisce chi può entrare chi no a destra il consesso dei patriarchi dai vestiti direi Cristo in crono in trono circondato dagli angeli e qua abbiamo finito con la rappresentazione e interrompo la condivisione sperando che stavolta sia riuscita al meglio vi saluto e come sempre vi inviteremo attraverso email alle prossime conferenze grazie grazie grazie